Lo so che hai paura. Hai una paura terribile di quello che hai visto. Ma voglio essere onesto con te. I tuoi amici non sono preparati per questa battaglia. Hawkins stracollerà. I miei amici hanno bisogno di me. Non sei pronta. Non si fermerà. Non finché non avrà preso tutto e tutti. Facciamolo. Ho questa terribile sensazione. Che stavolta potrebbe andarci male. È finita. Ora voglio solo che tu osservi. I tuoi amici hanno perso. Non si usavò. Non si usen. Non si usavò. Non si usavò. Allò che stavolta potrebbe andarci male. Non si usavò. 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 Grazie a tutti.